Spesso si dice che cavallo donato non si guarda in bocca, ma a volte al cavallo donato gli può anche bruciare il culo. Hi people of youtube, welcome back to a new episode of Assaggiamo, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Lo so, purtroppo come già vi ho detto i video del mercoledì sono diventati difficili da fare per via del lavoro, ma quando possibile non mi manco sempre di portarvi qualcosa di nuovo, che sia un video di Assaggiamo, che sia un video di qualsiasi altra cosa. Quello di oggi è un vero e proprio regalo, ovvero un mio amico è andato e mi ha preso queste patatine, patatine che onestamente non ho mai visto in giro, ma ormai la marca la conosciamo benissimo, se avete visto il video di San Valentino. La marca, la Kaz, è una marca di patatine sicuramente di qualità, ma molto spesso la qualità diventa inferiore quando il marketing diventa superiore, come nel caso appunto delle patatine al cazzo e alla figa. Beh, in questo caso niente di più semplice, flaming ghost, patatine piccanti. E se guardiamo la copertina, vediamo che ci sono tre simbolini, di cui uno non è ancora acceso, il che vuol dire che questo è solo il secondo più piccante di questo tipo. Lo troveremo il terzo? Non lo so. Leggiamo i livelli di piccantezza, come se fosse un video di Dragon Ball. Abbiamo lo scotch bonnet, 350.000. Abbiamo il ghost pepper, 1.300.000. Il chipotle, 8.000, questo effettivamente forse è il più basso, e l'altra volta lo scotch bonnet. Per qualche motivo, due volte è stato messo lo stesso. Non potevano mettere un altro peperoncino, no, hanno dovuto ripetere due volte lo stesso. Ma comunque, non so quanto l'abbia pagato, 50 grammi, però conoscendo la marca, sono sicuro che l'abbia pagato abbastanza. Apriamole. Ok, l'odore, vi posso dire, è lo stesso identico di quando abbiamo aperto le altre patatine della Kaz. Però le patatine ancora sono intere. A me ricordo le patatine alla paprika di qualsiasi altro supermercato. L'odore, come vi dicevo, non lo sento piccante. Non percepisco un odore piccante, sento solo l'odore delle patatine appunto della Kaz. Però, questa qui, come vedete, è bella carica. Assaggiamola. Allora, il piccantino si espande subito sulla lingua. Lo senti subito appena inizia a masticarla? Non capisco se tutti e tre i peperoncini sono mixati assieme o ogni patatina è più di una e più di un'altra. Però una volta che sono qui nel pacchetto, comunque, tutto si mischia. Prendiamone un'altra. Bella carichina. Si sente. Si sente tanto. Ma è un sapore che comunque ti rimane in bocca, ma non ti lascia stupefatto, diciamo. Non ti lascia catafratto. Cioè, non le mangerei tutte quante in una botta sola, ma non ti posso neanche dire che non finirei il pacchetto. Comunque, a livello di piccante, ci stanno. Si percepisce. Io il ghost pepper l'ho mangiato. Vi posso dire che questo è molto, molto più basso di livello. Forse, appunto, ne hanno messo di meno. Forse, mixato con tutto il resto, perde la sua forza. Non lo so, però non ti lascia tutto morente. Però sono mangiabili. Sono letteralmente mangiabili. Non godibili, perché comunque queste patatine, diciamolo, sono fatte per questi tipi di video. Per quelle sfide. Devi mangiare la patatina piccante, se no devi bere, devi mangiare. Onestamente, sono patatine che compri per il semplice gusto di fare questo tipo di contenuto. O per il semplice fatto di fare una sfida, una serata divertente, particolare. Ma, ovviamente, non sono patatine che compreresti al supermercato in continuazione. A differenza delle Takis. Le Takis, se le mettessero nei supermercati normali, non ti dico ogni sera, ma una volta ogni tanto me le spacchere volentieri. Queste qui, invece, sono patatine che, ovviamente, hanno un costo molto elevato, probabilmente soprattutto qua in Italia. Ma sono patatine, onestamente, sì, di qualità, ma che servono letteralmente per farti provare dolore. Dunque, signori, diamo il voto a queste patate. Ovviamente, parliamo del livello di piccante, non parliamo del gusto della patata, che comunque è buono. Ma è comunque una patatina. Onestamente, mi sento di dare un sette e mezzo. Sette e mezzo perché, secondo me, il ghost pepper o è davvero poco, o comunque è molto depotenziato rispetto a quello che dovrebbe essere. Nel senso, il piccante lo sento, lo percepisco sulla lingua, ma più di quello non ti posso dire. A differenza, per esempio, del ramen della Bultac, che quello, porca miseria, era bello tosto. O la patatina più piccante al mondo, quella io ho dato 10, ma proprio base, base, base. Mentre, ovviamente, una persona normale, diciamo che magari lo sente molto di più. Quindi, signori, abbiamo scoperto che la Kaz fa patatine di vario tipo. Ne proveremo altre? Non lo so, vedremo che cosa troviamo. Signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!